...di controllo, ma prevede l'utilizzo praticamente di tutte le tecniche possibili nelle discipline valsiare. A differenza di altri stili di karate, non ci sono né preclusioni per il tipo di colpi, né la necessità di fermarsi, come per esempio nella disciplina sportiva. Solamente quando vengono portate sequenze o colpi o chiusure, che palesemente sono definitive, ci si ferma e si ricomincia il combattimento. ... 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